Io non ci credo. Eppure è lì, davanti a te. Continua a non crederci. Oggi negli studi di Quarto Canale Flegreo ci sono i ragazzi della Drazil Production, un'associazione culturale che realizza produzioni video, autoproduce i propri lavori e siamo con il regista dell'associazione, Walter Rastrelli, che è anche l'autore dell'ultimo cortometraggio appena uscito. Il corto, che si chiama Linea Oraria, sta avendo anche abbastanza successo sul web ed è stato messo in lista per alcuni festival internazionali per l'anno prossimo ed è una cosa che ci fa molto molto piacere. Essendo una piccola associazione, avere tutto questo riscontro anche all'estero è interessante come cosa. Antonio, tu sei il presidente dell'associazione, non è la vostra prima produzione, usate molto il canale web e avete in mente di realizzare proprio una serie per il web? Sì, noi siamo attivi ormai da qualche anno, saranno quattro anni, e abbiamo realizzato già una decina di cortometraggi, alcuni sono su YouTube, altri invece no. Sì, diciamo in cantiere abbiamo una serie web, abbiamo anche un lungometraggio, tutte cose che scriviamo in vari momenti abbiamo scritto e adesso abbiamo un cantiere, diciamo nel cassetto, magari come sogno nel cassetto appunto questa serie web o anche appunto come dicevo prima il lungometraggio. Tu sei sceneggiatore ma sei anche attore nell'ultimo cortometraggio, di che cosa parla Linea Oraria? Allora, Linea Oraria fondamentalmente parla della storia di questo ragazzo che dopo una serata particolare, dopo aver avuto una crisi, si risveglia e trova un buco nero nella sua stanza. Chiama l'amico, che sarei io, e cercano diciamo entrambi una soluzione a questo problema. Tra l'altro, appunto, come dicevi prima, io sono attore in questo cortometraggio, sono coprotagonista. Ho avuto io come attore il piacere di recitare con altre persone che, diciamo, rappresentano belle realtà del cinema italiano e napoletano. Ci sono stati con noi Mirko Zagarella, il protagonista, Annalisa Renzulli, Martina Liberti, poi Michele Stefanile, che è un nostro amico ormai da anni, è stata, diciamo, una bella esperienza. Ci ha fatto molto, molto piacere. Un prodotto di grandissima qualità che ha anche delle musiche inedite. Sì, sono delle musiche inedite che, diciamo, aiutano a raccontare la storia di questo ragazzo che ha un'esistenza un po' particolare, soprattutto in questo suo periodo di vita. Diciamo, il compito del compositore in questo lavoro è stato far respirare le emozioni che il personaggio sta vivendo. Quindi, non attraverso le parole, ma attraverso suoni, musiche particolari, nei momenti di enfasi accentuarle un po' di più. L'importante è rendere bene l'idea che il personaggio ha in testa, in quel momento. Non ci resta che anticipare una grande anteprima campana. Il film sarà in onda, il cortometraggio sarà in onda sulla nostra emittente la prossima settimana. Sì, è una cosa che ci fa davvero molto piacere, perché è la prima volta che ci confrontiamo anche con la realtà della TV, sempre stati sul web, ed è per noi un grande passo in avanti tutto ciò.